E allora ci siamo per tutti gli amici ischitani e per tutti i turisti che spero siano migliaia in quell'isola meravigliosa, sabato 23 aprile io vi aspetto a Forio di Ischia in piazza del municipio alle 21.30 per due ore di musica e emozione e tanta voglia di condividere insieme a voi tutte le emozioni che abbiamo ottenuto represse in questi ultimi due anni, vi aspetto in tantissimi, ciao da Silvia Mezzanotte.